buongiorno a tutti sono marco massi oggi andremo a realizzare dei baci di dama ingredienti sono 250 grammi di farina debole per biscotti 50 grammi di fegola di patate 150 grammi di zucchero 200 grammi di farina di nocciole macinate grossolanamente 200 grammi di burro 2 grammi di sale una pacca di vaniglia iniziamo con il procedimento mettiamo in planetaria con la foglia il burro lo zucchero il sale incidiamo la bacca di vaniglia per estrarne la polpa e la farina di nocciole facciamo amalgamare tutti gli ingredienti una volta amalgamati tutti gli ingredienti andiamo ad inserire la farina e la fecola terminiamo l'impasto facendolo girare il meno possibile al fine di non formare la maglia glutinica l'impasto è pronto lo abbiamo montato il meno possibile lo lavoriamo un pochettino a mano sul tavolo prendiamo la pellicola lo mettiamo in frigo per almeno due ore trascorse le due ore riprendiamo il nostro impasto ne prendiamo un pezzo lo lavoriamo un pochettino sul tavolo fino a realizzare un filoncino a questo punto prendiamo una teglia con carta da forno formiamo i nostri baci di dama e andiamo a posizionarli sulla nostra teglia è importantissimo metterli sulla teglia in modo sfalzato così da uniformare la cottura una volta realizzati i nostri baci di dama inforniamo a 150 gradi per circa 12 minuti grazie a tutti